Oggi abbiamo incontrato i colleghi per confrontarci sulle esperienze legate alle riforme, ai correttivi alla riforma e ai protocolli, a tutti i percorsi deontologici nuovi che vengono fuori da queste nuove esperienze che sicuramente portano all'avvocatura un nuovo volto, una nuova figura, un nuovo modo di confrontarsi sia con gli assistiti, sia con i magistrati, sia con gli stessi colleghi. La dote che si richiede maggiormente agli avvocati e agli avvocati in questo momento è quella dell'aggiornamento e della duttilità, dell'elasticità rispetto alle nuove sfide che ogni giorno vengono fuori e quindi questi momenti di confronto sono quelli più importanti, quelli che più arricchiscono, quelli che consentono il confronto delle esperienze e il vantaggio di vivere anche quello che ha vissuto un'altra persona nel tuo stesso ruolo.